A sud di Plumbeopoli Qual è Plumbeopoli in inglese? Nestball, Nestball Utilizzata per i Pokémon deboli Sopra... Archeos, vai Dai che insieme lo basso Il Pokémon più debole di tutti Il Pokémon Alpha Ma io sono un Sigma Quindi sono superiore a lui Esco a battere, sono comunque più forte Il mio cervello, Gent Incredibile Non lo impara nessuno Ok, ci serve un altro Pokémon per... La mettiamo Archeos Diamo Flash Archeos Lui fa l'esempio di imparare Flash, no? Può imparare Flash Un altro poco da catturare a gente Però al 12, che palle al 12, va bene Pippo, è il tuo turno Vai Pippo Ti immagini che sei il creatore dell'universo Sei il dio di ogni cosa E una bambina di 10 anni Ti trova nell'erba alta Ti cattura la seconda Pokéball Con una Pokéball minore per i Pokémon deboli E poi ti chiama Pippo Tremendo Povero Pippo E ti usa come DM Slave È vero Ha 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 ha